I docenti universitari toscani incrociano le braccia e gli esami di settembre saltano per protesta. Colpa del blocco degli stipendi che dura da cinque anni, dicono professori e ricercatori, che in Toscana hanno aderito in modo massiccio allo sciopero. 120 quelli dell'Ateneo di Firenze, 264 quelli di Pisa e 96 quelli di Siena che hanno sottoscritto con altri 5.000 colleghi di 79 Atenei italiani una lettera di fuoco alla ministra dell'istruzione Valeria Fedeli al governo. La richiesta è che gli scatti stipendiali siano sbloccati dal 1 gennaio 2015 e che il quadriennio 2011-2014 sia riconosciuto ai fini giuridici. Questione di dignità professionale prima che di soldi, dicono. Intanto il primo risvolto pratico dello sciopero sarà l'assenza dei professori agli appelli d'esame previsti tra il 28 agosto e il 31 ottobre, con buona pace degli studenti che già hanno alzato la voce contro una protesta a loro esterna ma ai quali dovrà essere concesso almeno un appello straordinario.